Sì, anche i miei a tavola spesso sembrano robot, mangiano, ma mangiano così, solo per abitudine. Contro l'abitudine c'è un secondo veramente diverso, sofficini findus, gustosi, leggeri, pratici, li trovi in quattro gusti, alla carne, ai funghi, al formaggio, agli spinaci, tutte cose genuine. Per chi ha fame di nuovo, sofficini findus, sofficini findus, il piatto che libera dall'abitudine.